Uomini e donne, la scelta di Federico Alice e Carola, possibile registrazione il 9-12. Federico Nicotera si prepara alla fatidica scelta finale a Uomini e donne tra Alice e Carola. Da un po' di settimane, il giovane tronista sta portando avanti il suo percorso con le due affascinanti pretendenti che nel corso di queste settimane hanno saputo far breccia nel suo cuore. E, in vista della nuova registrazione del talk show di venerdì 9 dicembre, Federico potrebbe congedarsi dalla trasmissione e svelare il nome della sua favorita, abbandonando definitivamente i cast del trono classico. Nel dettaglio, le ultime anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Federico continua a essere diviso tra Alice e Carola, sono loro le due pretendenti che, nel corso di questi mesi, hanno saputo far breccia nel cuore del giovane tronista. Durante le ultime esterne, Federico si è lasciato andare con entrambe, i baci non sono mancate sia con Carola che con Alice ma, in vista delle prossime registrazioni, potrebbe essere giunto il momento della scelta finale. A svelare un po' di retroscena ci ha pensato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni che, sulla sua pagina Instagram, ha svelato che questo venerdì sera Federico è stato avvistato al concerto di Alessandra Amoroso assieme ad Alice. Non si esclude, quindi, che il tronista stia registrando le ultime esterne speciali con le sue due pretendenti. Prima di inarrivare alla scelta finale. E così, in vista della prossima registrazione del 9 dicembre, l'esperto Pugnaloni non esclude che possa esserci la prima scelta ufficiale di questa edizione. In attesa di scoprire se il prossimo 9 dicembre ci sarà davvero la fatidica registrazione della scelta finale di Federico. La trasmissione di Maria De Filippi eccezionalmente per la prossima settimana. Subirà delle modifiche legate alla programmazione televisiva. La settimana che va dal 5 al 9 dicembre prevede due appuntamenti in meno con uomini e donne nel pomeriggio di Canale 5. La trasmissione, che tutti i giorni appassiona una media di oltre 2,8 milioni di spettatori. Non sarà trasmessa durante il Ponte dell'Immacolata 2022. L'appuntamento con il talk show risulta sospeso nelle giornate dell'8 e 9 dicembre, al suo posto ci sarà spazio per la messa in onda di film natalizi che occuperanno anche la fascia oraria del pomeriggio tradizionalmente ad appannaggio del Daitime di Amici 22. Le due trasmissioni del pomeriggio di Maria De Filippi torneranno in onda regolarmente dal 12 dicembre con le ultime puntate della stagione 2022, prima dello stop natalizio. Grazie. 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 Grazie.